Allora la nostra associazione si chiama Amici della Poiana, è nata nel 2008 proprio per venire incontro a questo territorio che è al confine della nostra municipalità e le relazioni sono molto difficili perché le case sono isolate, perché qui si lavorava mezzadria e ogni casa aveva il suo appezzamento che poteva essere anche di due chilometri, quindi qui c'era bisogno di vitalizzare questo paese. Quindi abbiamo ideato delle iniziative, in questa associazione abbiamo molti gruppi che collaborano, abbiamo In Amicizia, sempre nel contesto dell'associazione, abbiamo il Cenacolo, abbiamo gli amici della musica, abbiamo la scuola di Merletto a Tombolo, per un periodo abbiamo avuto il gruppo Beard Watching di Gaggio per l'ambiente. Noi tutti, l'associazione, saremo felici se venite a trovarci qui a Canoghera nell'ex asilo di un tempo e per vederci, conoscerci in tutto il territorio della nostra municipalità, adese, campalto, tessera. Ecco, il mio recapito è 333 67 54 065